messaggio privato salusa alcune domande da laura domanda laura salusa buonasera un paio di lettori hanno sollevato questioni oggi a questo proposito se è giusto per un canalizzatore far pagare denaro per i messaggi vuoi commentare questo risposta salusa il dibattito preferito del momento è corretto è esatto è questo genuino molta gente avrebbe dovuto utilizzare tali occasioni per usare il loro discernimento questo fa parte dell'esperienza di apprendimento invece di ricorrere a ogni altra linea forse la gente prenderebbe in considerazione il rivolgendosi alla loro conoscenza interiore i propri sentimenti è come per tutte le vostre decisioni il potere che date agli eventi esterni o alle persone può avere solo l'impatto che si permette di avere subo i stessi quando qualcosa non risuona bene concedete tempo e spazio per la vostra intuizione per formare e sviluppare un parere non è nostro compito giudicare gli altri o dire alla gente cosa è accettabile e cosa non lo è vivere nel momento presente e le verità si riveleranno a voi cari amici confidiamo che la vostra intuizione vi mostrerà il percorso domanda laura credo che sia difficile focalizzare sulla parte interna quando siamo bombardati da tonnellate di informazioni dal mondo esterno come possiamo sapere chi è vero e chi lo fa per profitto o fama risposta salusa ancora una volta il vostro intuito alla fine arriva se fate valutazioni errate per favore non vedeteli come degli errori ma piuttosto come esperienze di apprendimento non c'è giudizio da parte nostra verso di tutti come sapete siete i vostri più saldi giudici dovreste tutti ascoltate quello che dice qualcun altro e la maggioranza ha sempre ragione questi sono i problemi su cui tutti hanno bisogno di lavorare adesso per questo motivo abbiamo incoraggiato tutti voi al discernimento in tutte le informazioni che ricevete certo concedete di tempo per voi di elaborare qualsiasi nuova informazione pesatela con il vostro cuore ma anche con il vostro essere non sentitevi delusi se gli altri hanno una comprensione diversa dalla vostra siete tutti sulla terra al fine di ricevere le esperienze necessarie per il proprio sviluppo ci saranno sempre quelle anime che vogliono giocare al vittimismo e coloro che hanno bisogno di avere potere è meglio essere l'agnello o il lupo? è meglio essere un santo ingenuo o essere uno scettico? siete tutti d'accordo di giocare un certo ruolo per questa incarnazione e mentre le pareti del materialismo stanno cadendo siete lasciati in modo maggiore con la vostra voce interiore a guidarvi? vorremmo suggerire che se nel vostro caso sentite la vostra voce interiore costantemente allora siete uno dei più fortunati tuttavia assicuratevi di non dare al resto delle voci troppa importanza le voci provenienti dall'interno possono diventare anche una distrazione e rappresentano la dualità per esempio buono e cattivo giusto e sbagliato riconoscete l'esistenza del mondo duale dentro di voi dentro la vostra testa dentro le vostre emozioni ma non lasciate che voi crediate a ciascuna di queste voci rimanete nel mezzo trovate calma e tranquillità all'interno solo allora si sarà in grado di tr ovare la vostra vera voce ancora una volta amici miei entrate in sintonia con la giusta frequenza domanda Laura allora quello che stai dicendo non è quello di identificarsi con una situazione confusa ma usarla per crescere è corretto? risposta salusa assolutamente corretto cara auguro a voi e ai tuoi lettori di trovare la pace interiore ed equilibrio intorno alle aree ardenti del momento ricordate di essere nel momento e di non perdervi nel momento salusa da sirio Laura Tico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti